Lui c'è in colone poi così sgradevole, ma non mi sembra poi così sensazionevole, se Lucio dà l'anno mi dà tanta energia, mettiamo un disco di fidenco di mia zia. Se mi capizzi si riascolta di mattina, il pomeriggio dopo pranzo bobbi solo, antichi suoni rock'n'roll e little toni, e poi vi dal via alla sera con i tuoni. Il metico non fa niente di strano, non riesce a improvvisare. Quando fiove non ne esce mai, non riesce a improvvisare. Cerca un posto nel tram, jump and shout, Lui c'è un posto nel tram, non riesce a improvvisare. Lui c'è un posto nel tram, non riesce a improvvisare. Telegiornali, cellulari e radio uno, cornetto al barbarino al bar aperitivo, c'è una commessa che mi guarda da lontano, penso al mio letto e canticchio califano. Medicoloso, uniformato, un po' formale, giacca e cravatta, doppio petto e tutto uguale, e dalla sera parte la mia fantasia, con la commessa immaginaria vado via. Grazie. 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 Grazie.